Grazie a uno scandola, allora ci siamo visti nel 2017, ci siamo visti prima della partenza della Dakar in Sud America, all'arrivo della Dakar in Sud America, ora cambiamo, cambiamo andiamo in Africa, quindi Africa Eco Race, quindi la vera Dakar nel senso si arriva veramente a Dakar, ma con un SSV Polaris. Esatto, l'esperienza è stimolante perché è una macchina diversa un po' da quella che ho usato alla Dakar. Direi. Esatto, speriamo anche di avere altri tipi di soddisfazioni, di esperienze, soprattutto qua che c'è molta sabbia, molta più sabbia che alla Dakar, secondo me questo tipo di macchina è molto divertente. Senti, ma la cosa anche bellissima è che al tuo fianco c'è Michelangelo, tuo figlio. Esatto, padre e figlio, come si vuol dire, penso che sia il sogno. Il laureando. Esatto, si è appena laureato. Anzi, laureato, giusto? Esatto. Penso che sia un po' il sogno di tutti, insomma, riuscire a fare uno sport insieme al figlio e condividere tutti questi giorni in macchina. Speriamo che vada tutto bene e sia di buon auspicio. Senti, ma tu hai pazienza con lui? Sì. Abitualmente? Abitualmente sì, poi essendo più vecchio penso che ne abbia più lui, dovrebbe averne più lui. Lui deve avere rispetto, quindi se ti arrabbi deve dire solo scusa papà ho sbagliato una nota. Esatto, esatto. Però abbiamo detto che l'abbiamo premesso all'inizio, guarda che siamo qua per divertirci, per cui è giusto non sottovalutare avere la concentrazione giusta, adeguata per il tipo di gara che andiamo a fare, però siamo lì per divertirci. Senti, so che non vi siete fatti mancare nulla, quindi la sera quando arrivi niente tendina, bensì un camper. Sì, altra esperienza. Siccome mia moglie mi ha sempre seguito in 30 anni di gare, è giusto che anche qua che corre il figlio e anche il marito, abbiamo preso un camper che ci segue, per cui quando arriveremo al bivacco sarà come essere un po' a casa. Meraviglioso, quindi tutto in bolla e in team insieme ai gemelli. Esatto, la cosa più bella è stata con i gemelli, anche perché c'è una proposta loro, per cui nasce da loro l'idea che abbiamo preso il volo e a Lorenzo che ci supporta in questa esperienza. Quindi ci si vede il 22 dicembre a Verona per la prima partenza, perché siamo a casa tua, praticamente. Esatto, noi giochiamo in casa. E poi Mentone e Monte Carlo. Esatto. Fantastico, non vedo l'ora. Speriamo che va tutto bene. Vai, sei in preparazione, sei in allenamento, stai facendo cose? Sì, l'allenamento più grosso per me è la dieta. Pensavo in lavoro. No, è la dieta e poi la sera, naturalmente, è sempre l'ora di attività fisica per trovarsi. La dieta perché effettivamente su un SSV fra te e Michelangelo abbiamo un peso costituito dall'equipaggio di 100 e? 100, no, quasi 200 figli. Io sono 110, lui è 90, per cui arriviamo a 200 figli. Perfetto, benissimo. Grazie mille intanto e buona serata. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.